Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale. Io sono Mattia e sono in compagnia di Chiara, Melissa, Federica e Nicolò. Ho saputo che io avrei fatto un esperimento. Melissa, puoi spiegarcelo? Certo, è l'esperimento dell'inchiostro invisibile. Abbiamo scritto su un foglio di carta con un succo di limone. E resta asciugare per un po'. Dopo abbiamo posto sopra dello iodio e il foglio si è tinto, a parte la parte in cui abbiamo scritto. Perché il succo di limone, accostato con lo iodio, crea una stanza in colore. Grazie, Melissa. Federica, avresti in tua parere da esprimere? Per me è stato molto interessante, anche perché non mi piace più fare esperimenti che leggere il suo libro e studiare tuttamente. E' troppo pesante, invece alcune volte per fare esperimenti e studiare se lo rende molto più facile e leggero. Grazie. Chiara, tu avresti anche di imparare a esprimere? Sì, anche io trovo che mi sono sicura che sia stata un modo più leggero per apprendere, molto interessante. Sono sicura che alla protezione ho avuto molto nel tuo comportamento perché eravamo coinvolti nella legione. E sono sicura che abbiamo tante volte accorto in me. Grazie Chiara della tua opinione. Io vorrei sentire anche un'ultima opinione da Nicolò. Anche a me piace molto fare questi esperimenti. Sono molto divertenti e anche più facili da apprendere. Spero che ne facciamo e che ne faremo anche altri. Se li faremo, ovviamente ve li racconteremo. Grazie dell'ascolto. Noi ci risentiamo. Alla prossima.